Buongiorno a tutti i nostri maestri simplici 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 Buongiorno a tutti i nostri maestri 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 simplici Buongiorno a tutti i nostri maestri simplici Buongiorno a tutti i nostri maestri E' una nuova creazione going to show the settings for 3 things and active players they the first part you get into when you want to represent the retrofit Scorchino, non sto parlando, non sto parlando di persona. Portate in generale, non sto parlando di system, non sto parlando di molto scoperta. E' finalmente... Cosa, mamma mia, è che cosa? Ma le G ex ex anche non furti? E P&G E P&G Eeeeeeehh... P&G è che cosa non me ne imparte? Ehi, va, mi ha detto il mondo di pippa, mi sto parlando di forza, e se li ho chiesto tuoi, ma se tu mi ha provato il mio sistema, tu passa, non mi scherzi, I am fine allì, I up, I move, I move, I move, I get a breakfast, what day, it's here, l'era il mio solito in compresa la lista, 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 la Grazie a tutti. Grazie a tutti.